Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi farò un po' di coccole al mio bellissimo è un cane, è un bulldog francese, ha otto anni ed è nato nel 2012 come vedete faccio qualche peluzzo bianco qui mi piacciono tante i grattini come vedete i bulldog francesi sono bello corto e possono essere di vari colori, prevalentemente neri o bianchi quelli più rari sono anche sul grigio e hanno gli occhi azzurri ma lui di nome è Ciacchi, ha gli occhi castani e ha un suo corto e a volte è rossa e ha le orecchiette un po' lunghe a te rispetto ai gallini ce li ha su i gallini ce li hanno così ma ce li ha in su come vedete ha qualche peluzzo bianco e ha un po' di ucchiette non tanto ma se spazio e anche il migliorno e anche il migliorno e il migliorno è un po' di ucchiette è un po' di ucchiette ma è un po' di ucchiette Grazie a tutti. Grazie a tutti.